Intensificati i controlli sulle abbandoni dei rifiuti a Cerignola ed ecco immortalati in video e sanzionati i primi responsabili. E alle fototrappole già disseminate nel centro urbano e nei tratti extraurbani della città ofantina ne stanno arrivando altre 15. La nostra azione di repressione continuerà in maniera puntuale e sistematica e fioccheranno multe, promette l'assessore comunale alla sicurezza Teresa Ciccolella, mentre rassicurazioni arrivano dall'assessore all'ambiente Mario Liscio. Abbiamo candidato Cerignola ad un finanziamento per complessivi 870 mila euro per ottenere sei isole ecologiche, di cui una mobile, ed un nuovo centro comunale di raccolta alle porte della città, racconta l'assessore, pregando i cittadini di collaborare. Solo due giorni fa abbiamo ripulito totalmente le rampe di accesso alla Statale 16, ma dopo qualche ora gli incivili si sono nuovamente palesati. Rassicurazioni anche dal Sindaco Bonito. Ci muoviamo su un doppio binario, da una parte il miglioramento dei servizi, dall'altra una forte azione di repressione. Stiamo cercando di riappropriarci anche degli impianti di forcone e caffiero della fallita Asia, la cui attivazione potrà portare in primis un abbassamento considerevole della Tari.